E' bellissimo vincere all'ultimo respiro, siamo veramente contenti, ce la godiamo, la meritiamo noi, la merita il mister dei croci, la merita la società, la merita i tifosi, la merita i familiari a casa che ci hanno sopportato in questi mesi quando tornavamo a casa un po' così. Niente, siamo contenti e finalmente passeremo anche, anche se la classifica non sorride ancora, comunque è un buon Natale. Quando avete visto Giancarlo partire con il controllone cosa avete pensato? L'altro dei secondi interminabili? Sì, io onestamente ho pensato se segna Varbelli chi lo ferma più perché Spogliatoio è un personaggio e adesso fino alla prima di ritorno sarà ingestibile. Cooperata invece? Sono contento, so che da me ci si aspetta sempre tanto, è giusto così, quest'anno le giorni d'andata tutti noi abbiamo reso magari qualcosina in meno, abbiamo avuto degli alti e bassi, adesso mi godo e ci godiamo questa vittoria. Mi fa un augurio di Natale a tutti i tifosi del nostro gruppo. Sì, faccio un augurio a tutti quanti di buone feste e ci rivediamo con l'anno nuovo.